Se tanti non pagano le tasse, non ci sono servizi. Se più persone pagano le tasse, i servizi aumentano. Ma solo quando tutti le pagano, questi servizi diventano davvero efficienti. Se tutti pagano le tasse, le tasse ripagano tutti. Con più servizi. Chi vive a spese degli altri danneggia tutti. Battere l'evasione fiscale è tuo interesse. Alcuni italiani mettono loro, le loro mani, nelle tasche di altri italiani. Sono gli evasori rispetto ai contribuenti onesti.